Insieme al presidente di Vivi Cilento, Emanuele Ruocco, abbiamo costruito un rapporto di collaborazione e di discussione in questi anni. Qui si vuole fare il processo alle intenzioni. Ho il dubbio quando Emanuele fa delle esternazioni che ogni volta ci sia un retropensiero da parte sua. A dichiararlo ai nostri microfoni il primo cittadino di Agropoli, Adamo Coppola, dopo le dichiarazioni del presidente Ruocco sugli introiti della tassa di soggiorno. Io ho sempre il dubbio quando Emanuele fa delle esternazioni. Mi vengono spesso di dubbio perché non capisco. Noi abbiamo costruito un rapporto di collaborazione e di discussione. E anche qui. Invece poi a un certo punto vengono fuori posizioni preconcette, preconfezionate, non valutate insieme. Quindi ho sempre il dubbio che ci sia un retropensiero da parte sua. Per quel che riguarda le sue valutazioni posso tranquillamente rispondere che lui parla di un incremento della tassa, non c'è. Soltanto che noi abbiamo fatto una previsione l'anno scorso di 80.000 euro di entrata. Quando si fanno le previsioni si fanno sottostimate, in modo tale da non rischiare di fare previsioni elevate e poi non rispettarle. Perché si tratta di entrate. Quindi io se incasso quei soldi e poi li ho spesi mi potrei trovare con un buco. Quindi abbiamo fatto una previsione sottostimata a 80. Questa è stata fatta a 120 perché l'incasso della tassa di quest'anno e in più la valutazione su coloro che l'hanno pagato ci porta a pensare che possiamo incassare a 120. Quindi nessun aumento. E le spese sono state spostate su capitoli di bilancio. Uno in particolare è capito che si chiama Vivi Agropoli che è un capitolo che si occupa di turismo, dove si parla di servizi per il turismo. In quel capitolo dove abbiamo messo 70.000 euro possono uscire tutte le cose che lui ha chiesto. Allora qui il concetto è proprio questo. È un capitolo dove ci sono servizi per il turismo. È un capitolo unico dove c'è scritto Vivi Agropoli. Da quel capitolo possiamo spendere se vogliamo i soldi per un primo servizio che può essere quello che lui ha richiesto delle navette. Nessuno ci impedisce di farlo. Allora ecco il processo alle intenzioni. Questo dispiace.